Il conto alla rovescia per le semifinali è cominciato, oggi pomeriggio ore 18, Brasile-Polonia e alle 21 Italia-Slovenia. Si decideranno le finaliste di questo ventesimo campionato del mondo, la Polonia ne ha già vinti due consecutivi e va a caccia di un clamoroso tris dopo il primo successo che risale addirittura al 1974. Il Palazzo dello Sport di Katowice si prepara ad accogliere le molte migliaia di tifosi che riempiranno ovviamente l'impianto per queste due partite molto attese e dall'esito incerto. In Polonia la Palavolo è praticamente lo sport nazionale. Grazie.